Comparirà davanti al Tribunale dei minorenni di Catanzaro il prossimo 5 aprile la giovane minore all'epoca in cui si sono svolti i fatti. Coinvolta nell'aggressione a Davide Ferrerio, il 21enne di Bologna, picchiato l'11 agosto 2022 a Crotone, è ricoverato da allora in come reversibile all'ospedale maggiore del capoluogo emiliano. I GIP ha fissato l'udienza del processo che si terrà con il rito abbreviato. La ragazza, accusata di concorso anomalo in tentato omicidio, è al centro della vicenda che ha portato all'aggressione di Ferrerio. La giovane quella sera aveva dato appuntamento ad un uomo di 31 anni che la stava corteggiando sui social, utilizzando il falso profilo con il nome dell'ex fidanzato della ragazza. Secondo le indagini svolte dalla squadra mobile, la trappola era stata organizzata dalla madre della ragazza che avrebbe istigato anche Nicolò Passalacqua, accusato di essere l'autore dell'aggressione. Quando però il vero corteggiatore si era accorto del pericolo, aveva sviato le attenzioni da sé, inviando un messaggio alla giovane, indicandole di avere una maglia bianca, proprio come Davide, che ignaro, si trovava in zona e che è stato poi aggredito da Passalacqua. Nel caso di morte cerebrale del ragazzo, l'accusa sarebbe da modificare in omicidio, ipotesi che non renderebbe possibile il rito abbreviato che Passalacqua sarebbe intenzionato a chiedere.